Ben trovati all'appuntamento con dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Come il nostro solito, tre argomenti. Parliamo subito delle concessioni balneari, approvata una proposta di legge per quanto riguarda le indicazioni ai 34 comuni costieri. Si parla anche del via libera, le modifiche della legge che riguarda i caminetti e poi la campagna social per l'estate toscana contemporanea del Consiglio regionale. Partiamo subito dal primo tema, quello che riguarda i criteri di permeabilità e condennizzo, indicazioni omogenee in tempi rapidi. Ai 34 comuni costieri toscani in materia di concessioni balneari arrivano dalla Regione. Infatti questo è l'obiettivo dell'atto che va a modificare e attualizzare la legge regionale del 2016 che disciplina alcuni criteri e condizioni nelle quali i comuni devono attenersi per quanto riguarda le procedure comparative per l'assegnazione delle concessioni per finalità turistico-recreative. La proposta di legge è stata approvata con 30 voti favorevoli, 3 voti contrari, 6 voti di astensione. Ascoltiamo i consiglieri. Noi abbiamo realizzato oggi, approvato oggi una norma che prevede l'equo indennizzo, cioè prevede di poter rimettere in concessione per un certo numero di anni tenendo conto che chi ha fatto investimenti, quegli investimenti gli devono essere riconosciuti. Penso che noi abbiamo fatto quello che potevamo fare il massimo possibile. Quindi il mio è un appello al Governo. Non si può continuare a tenere tante imprese in una condizione di non chiarezza. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta. Sappiamo che abbiamo fatto una norma molto forte anche rispetto al rapporto tra Stato e Regioni, ma l'immobilismo del Governo ci ha portato a farla. Con questa legge reintroduciamo il concetto di equo indennizzo che era stato all'epoca rimosso dalla Corte Costituzionale, ma nel frattempo nel 2021 reintrodotto dal Governo Draghi con una legge e forniamo alle imprese e soprattutto ai comuni toscani un riferimento normativo per la gestione di queste procedure di assegnazione delle concessioni. Anche con in riferimento all'equo indennizzo, riferito al valore non ammortizzato dei beni strumentali, quindi degli investimenti che l'azienda ha fatto e anche al valore redditoriale dell'impresa. Affidiamo alla Giunta regionale, che avrà 45 giorni di tempo, la redazione delle linee guida dove questo equo indennizzo sarà qualificato. Inoltre si introduce un altro principio che è quello della tutela delle micro, piccole e medie imprese nell'ambito delle procedure competitive. Più si è piccoli, micro o medie, più si avrà una tutela. C'è un principio di concorrenza che va in ogni caso salvaguardata perché qualora arrivassero in maniera massiccia molti nazionali ad investire sulle nostre spiagge, ritengo che questa verrebbe meno perché si chiederebbe un'omogeneizzazione dell'offerta, mentre oggi è possibile nell'arco di pochissime centinaia di metri passare da un ombrellone che costa 25 euro al giorno a ombrellone che ne possono stare anche 200-250 in base ai servizi che sono stati dati. Va contemplato a mio avviso anche un limite massimo dei bagni a cui si può partecipare alle aste da parte delle imprese straniere per evitare che ci sia una man bassa da parte delle multinazionali e anche a livello nazionale. La sentenza del Consiglio di Stato invece che riguarda le attività immobili che fa sì che esse tornino senza alcun tipo di indennizzo al demanio e quindi allo Stato, a mio avviso, va in qualche modo rivista perché spesso in queste attività ci sono persone che hanno gestione dell'attività presa dal concessionario. C'è un problema della risorsa e anche ambientale, c'è un problema delle strutture sulla quale è uscita una sentenza recentemente che devono ritornare di proprietà dello Stato e soprattutto c'è il diritto della navigazione, una normativa sovranazionale europea che ci dice chiaramente che dobbiamo riportare le impostazioni a quella che piuttosto è seguita in Francia o in Spagna. Questi sono i problemi che devono essere affrontati. Invece con questa proposta di legge si è inteso probabilmente cercare di fare dei favori o cercare di risolvere in maniera abborracciata una situazione che secondo noi si va semplicemente di più a complicare. Leggevo un articolo proprio ieri del Corriere della Sera che a fronte di prime file pagate 300 euro ad ombrellone, quello stesso bagno che non citerò paga 5.400 euro di canone demaniale annuale. Per cui è giusto che ci siano dei punti fermi e che diano ristoro e un equindennizzo ai balneari che si trovano in una situazione sicuramente critica perché non sanno come e quanto investire nella loro attività. Ma credo che soltanto una giusta ricompensa allo Stato per queste concessioni debba essere attinente alla legge stessa e quindi debba essere ricompresa nella legge. Quindi una riformulazione globale di tutta questa vicenda che muove migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro e che però limita la sua attività su quanto possa essere o meno il ristoro delle concessioni perdute. Il governo Meloni è impegnato su questo fronte, su quello della scarsità della risorsa, stiamo cercando di completare in maniera adeguata la mappatura delle nostre coste e al tempo stesso stiamo trattando ancora a livello comunitario. Quindi è chiaro quello che è il messaggio politico che viene lanciato attraverso questa legge che chiaramente in ogni caso abbiamo considerato e valutato costruttivamente da qui il nostro voto di astensione perché cerca comunque di entrare nel dettaglio e nel merito tenendo conto della contestualità della nostra costa con tutte le sue differenze. Questa legge affossa definitivamente gli stabilimenti balneari, introduce un elemento sul quale non possiamo noi non essere contrari, cioè l'indennizio. Ma quale indennizio? L'indennizio si dà a chi ha subito un incidente, a chi gli hanno bruciato la macchina. Qui li tolgono il lavoro. Fare le aste significa togliere il lavoro a un'intera economia, l'economia degli stabilimenti balneari, l'economia delle nostre infanze, l'economia di una comunità intera, gli stabilimenti balneari, famiglie che da anni gestiscono stabilimenti balneari, che hanno fatto investimenti, che ci hanno messo sacrificio, che curano la costa. Cosa sarebbero le coste italiane senza gli stabilimenti balneari? Si prendono cura delle coste anche nel periodo invernale. Lo stabilimento balneare è la famiglia per tanti di noi. Ecco perché Forza Italia è contraria alle aste, contraria alla bol che sta in contraria agli indennizi. Certo, c'è un elemento, abbiamo chiesto di introdurre in quella legge, che è il valore aziendale. Ci hanno detto di no, noi continueremo a batterci per gli stabilimenti balneari che consideriamo un'infrastruttura fondamentale per il nostro paese. Crediamo che in questo momento, in un vulnus nazionale, la regione toscana abbia dato un'impronta politica che però va nella direzione di quello che è un confronto serrato anche a livello nazionale con le categorie e quindi che porta avanti il principio appunto di sviluppo e quindi di prima realità per quelle che sono le micro, piccole e medie imprese che in Toscana ce ne sono tantissime in tema di stabilimenti balneari e quello che è il principio appunto di eco indennizio e quindi di valore imprenditoriale per tutte quelle imprese che si ripresenteranno nel futuro quando verranno fatti le assegnazioni degli stabilimenti e che non riceveranno purtroppo l'assegnazione dello stabilimento balneare. Parliamo di cabinetti. L'Aula ha approvato a maggioranza la legge che modifica la 39 del 2005 per la disciplina dell'accostamento degli impianti di riscaldamento alimentati con biocombustibile solido con potenza nominale inferiore. A 10 kilowatti i voti a favore sono stati 21, 7 e contrari un voto di astensione. Il provvedimento dispone che l'accatastamento degli impianti non è più obbligatorio ma questa è la condizione necessaria per poter accedere ai contributi regionali per la sostituzione degli impianti. Grazie a noi non ci sono più sanzioni, grazie a noi è soltanto un elemento informativo, corretto, doveroso, conoscere la presenza dei camionetti nelle abitazioni ma non ci saranno delle sanzioni, ci sarà un'attività informativa, conoscitiva, ci sarà l'agenzia regionale che darà supporto e sostegno insieme ai comuni a tutti i cittadini. Si è allentata e di molto una direttiva comunitaria che era molto stringente, l'impianto originario della legge era molto tassativo, oggi la normativa è positiva perché di fatto non ci sono tasse, non ci sono sanzioni, è un elemento di conoscenza opportuno per cercare di abbinare la presenza dei camini nelle case a quelle delle caldaie, ci sarà la possibilità di fare questa comunicazione per mail, per numero di telefono, non c'è una scadenza, quindi con calma verrà fatta e questo grazie al lavoro che ha fatto Italia Viva, il sottoscritto che vedeva nella prima fase di questa legge una legge troppo rigida, troppo tassativa e che sarebbe stata avversatoria nei confronti dei cittadini toscani. Il fatto di autodenunciare il possesso di un caminetto non significa pagare qualcosa perché la procedura è completamente gratuita, non ci sono tasse, non sono previste nessun tipo di tassazione, serve solo per capire come una fonte che in alcuni territori della Toscana è particolarmente usata anche per riscaldarsi, infatti ci sono moltissime abitazioni in cui il caminetto è l'unica fonte di caldo in quella abitazione, siccome in alcune zone, per esempio nella Lucchesia e in alcune zone del Pistoiesse, si sono verificati degli sforamenti di PM10 che ci hanno visto fare un'infrazione da parte dell'Europa per questo inquinamento, però la Regione non ha da nessuna parte un censimento di chi ha il caminetto e dove sono questi caminetti, questo serve perché vogliamo ancora di più migliorare le politiche per l'area pulita. La Lega ha posto un problema di fondo, anche di ordine politico, noi l'avevamo già detto a suo tempo, mettendo in evidenza che non era possibile discutere una legge di questo tipo fino a quando non avremmo avuto un piano dell'aria aggiornato, piano dell'aria che in realtà ancora non ha visto la luce, che ha visto un'informativa ma si teme che sarà affrontato di qui a molti mesi. E allora sotto questo aspetto noi riteniamo, e l'abbiamo detto a più riprese anche oggi, che i dati portati avanti da Pathos su quello che è l'inquinamento, per esempio nella Piana Lucchese, non siano in realtà aggiornati a quello che è il quadro odierno. La scadenza per l'accatastamento e l'autocertificazione dei nuovi impianti è ora al 31 di luglio 2024, ma nel frattempo è stato diviso le categorie. Gli impianti sopra i 10 kilowatt hanno l'obbligo di accatastamento e se non lo fanno i proprietari saranno oggetto di sanzioni dopo le verifiche fatte dall'Agenzia Recupero Risorse della Regione. Gli impianti sotto i 10 kilowatt e quindi la maggior parte dei caminetti e dei piccoli sistemi interni alle abitazioni non sono più soggetti all'accatastamento, ma basterà una semplice autodichiarazione senza comunque nessun tipo di sanzione. Quindi la consideriamo una battaglia vinta, anche se molto c'è da fare per combattere l'inquinamento atmosferico nella Regione Toscana. È stata presentata la campagna social del Consiglio regionale per l'estate 2024. Toscana contemporanea. È dedicata ai luoghi d'arte contemporanei, quelli all'aperto, quella dell'arte urbana, ai parchi d'arte attraverso una campagna fotografica con video formati informativi non soltanto su Viti Tascani ma anche sui social. L'arte urbana rende la Toscana un grande museo a cielo aperto. In questi anni abbiamo deciso di investirci tanto, vorremmo continuarlo a fare anche nel futuro. In questo c'è l'idea della Toscana diffusa, queste opere uniche, stupende, dai piccoli borghi della Garfagnana fino a Pisa, a Firenze, riescono a raccontarci una Toscana in grado non solo di vivere nella bellezza del suo passato ma anche di raccontare il presente e farlo con un'arte, un'arte moderna, un'arte più vicina alle persone, in grado anche di creare socialità. Toscana contemporanea è tutto questo. negli scorsi anni abbiamo deciso di raccontare la Toscana dei piccoli borghi, la Toscana dei parchi, quest'anno invece raccontiamo la Toscana dell'arte di strada, la Toscana dell'arte vicina alle persone e chiediamo alle cittadine e ai cittadini della nostra regione e non solo, anche ai tanti turisti, di andare a scoprire quante meraviglie ci sono nella Toscana diffusa. Accompagneremo con tutti i sistemi di comunicazione, quindi dei video, dei reel e dei format informativi su tutti i nostri sistemi, quindi non solo quelli a fini turistici come la visita a Scani ma anche quelli a fini informativi e comunicativi con la redazione di in Toscana e tutti gli strumenti social e la redazione del consiglio. Accompagneremo questa manifestazione che serve a far vedere come la diffusione dell'arte contemporanea coniuga bene l'identità della Toscana fra antico, storia, cultura, radicamento e al contempo la contemporaneità che coniuga l'identità toscana in maniera innovativa. E questo era anche l'ultimo argomento, vi ricordo per tutti gli aggiornamenti e le informazioni www.inconsiglio.it. Noi ci fermiamo per qualche settimana insieme al Consiglio regionale torneremo a settembre per nuovi aggiornamenti sempre nel nostro appuntamento settimanale con Dentro il Consiglio. www.inconsiglio.it. Noi ci fermiamo. www.inconsiglio.it. Noi ci fermiamo.